Grazie, grazie Emiliano, grazie per l'invito. Sono Cosio Mattiucci, sono qui rappresentanza di MGA, Mobilitazione Generale degli Avvocati e una nuova associazione nazionale forense di matrice sindacale, a sua volta aderente ad un'aggregazione molto più ampia, la coalizione 27 febbraio, che aggrega nuovi movimenti e nuove associazioni che si occupano proprio di sindacalizzare il lavoro autonomo, il lavoro professionale impoverito ed in generale il mondo delle partite IVA. Sindacalizzazione che si rende necessaria per far emergere un problema che secondo noi è stato assolutamente sottovalutato dal vecchio, ormai tradizionale sindacato, il lavoro autonomo, quelle che sono le sue difficoltà, quella che è l'enorme iniquità del sistema fiscale, di cui prima è stato fatto qualche accenno, quella che è l'enorme iniquità del sistema previdenziale, quelle che sono le problematiche connesse al nuovo strumento dello sfruttamento del lavoro qui in Italia che è diventato proprio la partita IVA. Ho ascoltato con molto interesse soprattutto le parti relative al sistema fiscale che viene proposto dal Movimento Possibile e i punti in comune ce ne sono tanti, a partire innanzitutto da quello evidenziato durante l'introduzione, l'equità intergenerazionale e poi dei passaggi fondamentali che riguardano proprio il raggiungimento di un sistema fiscale equo e il ripristino della caratteristica della progressività del regime fiscale dell'articolo 53 della Costituzione che è fondamentale proprio al fine di recuperare risorse che possono servire poi a finanziare un grande piano di redistribuzione della ricchezza in Italia che è poi l'elemento cardine di qualsiasi azione che un buon governo dovrebbe riuscire a metterne in campo. Mi collego subito a quello che è il titolo di questo nostro incontro, idee per un nuovo progetto di governo. Bene, secondo noi le idee per questo nuovo governo non dovrebbero prescindere da porre attenzione a tutto quello che è stato fino ad oggi trascurato all'interno del mondo del lavoro, mondo del lavoro che è cambiato, è cambiato in peggio, non soltanto nel lavoro dipendente ma anche nel lavoro autonomo, peggioramenti questi che come detto in precedenza sono stati da sempre trascurati. Come sempre per una corretta analisi, compresa la mia, è necessario parlare di dati. Il dato principale al fine della mia analisi è questo. Da un'analisi, da un'indagine vita da professionisti, l'associazione Bruno Trentin, sostenuta anch'essa dalla CGL, è emerso che in Italia circa il 45% dei professionisti langue in una fascia reddituale che va da zero a 15.000 euro lordi annui. Stiamo parlando di un numero enorme di persone, stiamo parlando di quasi 1,6 milione di persone, considerando che i professionisti in Italia, sempre come emerge dalla stessa indagine, sono pari a 3,5 milioni, esclusi gli imprenditori e i professionisti con i dipendenti, con i quali si raggiunge la soglia importantissima di 5,5 milioni di professionisti qua in Italia. Un altro dato importante che ci serve poi per comprendere quella che sarà l'evoluzione del mio intervento è quella che di questi 5,5 milioni soltanto 220 mila sono iscritti alla gestione separata IMSS. Questo è un dato molto importante che ci servirà poi per ragionare su un altro aspetto che è quello della previdenza in Italia, che prevede dei sistemi molto diversificati a seconda che il lavoratore autonomo sia iscritto o meno alla gestione separata IMSS, piuttosto che a una delle 21 casse di previdenza che in Italia gestiscono l'assistenza e la previdenza dei professionisti. Queste sono cose che in Italia non vengono mai raccontate ed è giusto, anzi grazie per questo spazio che ci consente di far emergere quelle che sono le profonde problematiche di questo ambiente. Questi dati fanno emergere quelli che secondo noi sono due problemi. Il primo è quello delle difficoltà economiche, fiscali e previdenziali di questo 45%. Il secondo è quello di evidenziare quelli che sono i limiti dell'attività legislativa del governo in questo settore ed in particolare quello che Renzi ha definito essere lo statuto del lavoro autonomo. Non lo è, non lo è semplicemente perché non si rivolge a tutti i lavoratori autonomi, ma si rivolge soltanto a quei 220 mila lavoratori autonomi che sono iscritti alla gestione separata IMSS. Sia chiaro che questo statuto contiene alcuni dei provvedimenti pregevoli degni di sostegno, ma il problema è esattamente questo, l'uso strumentale delle parole, parole che vengono utilizzate per definire qualcosa che è assolutamente diverso da ciò che effettivamente è. Quello di Renzi non è lo statuto del lavoro autonomo. A dire vero neanche lo statuto universale delle lavoratrici e dei lavoratori della CGL non è uno statuto universale, perché anche in questo caso, fermo restando che ci sono delle misure condivisibili, anche in questo caso quello statuto è rivolto quasi esclusivamente a quei lavoratori iscritti alla gestione separata. Questo si riesce ad affermare, soprattutto se si prende in considerazione il trattamento previdenziale, perché questo è un elemento di discrimine. In Italia i lavoratori autonomi dal punto di vista previdenziale sono sottoposti ad una differente disciplina a seconda della professione che svolgono. Io sono un avvocato, sono iscritto alla Cassa Forense. Per ciascun professionista c'è una Cassa di riferimento che gestisce la previdenza e l'assistenza, in Italia ce ne sono 21, con trattamenti previdenziali e assistenziali assolutamente diversificati, con tutto è un problema connessi anche all'organizzazione e alla combinazione dei vari trattamenti, senza considerare poi la gestione separata IMS. Da questo punto di vista, quello che è stato sbandierato come una riduzione, speriamo, per i compagni, i lavoratori iscritti alla gestione separata IMS, di una riduzione dell'aliquota, è previsto soltanto per i lavoratori iscritti alla gestione IMS. Ciò che viene sbandierato come una riduzione della pressione previdenziale riguarda soltanto loro. C'è un problema di iniquità della pressione previdenziale che riguarda tutti gli altri lavoratori. Parlo del mio caso. La percentuale a cui MGA fa praticamente riferimento considerando gli avvocati è il 36,6%, perché è questa l'aliquota degli avvocati in Italia che languono in quella fascia reddituale che va da 0 a 10.000 euro lordi annui. Non si tratta di avvocati fiscali. Consideriamo la soglia di 10.000 euro lordi annui. Il nostro sistema previdenziale ci impone il pagamento obbligatorio di contributi minimi che sono pari quest'anno a 3.800 euro. Il problema dei contributi minimi obbligatori saranno tutti i lavoratori autonomi iscritti alle casti di previdenza. Una contribuzione pari a 3.800 euro e pari ad una contribuzione sul reddito di 10.000 euro pari al 37%. Un lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata IMSS paga attualmente una percentuale che oscilla sul 27,62%. Su 10.000 euro, detrati 3.800 euro di contributi minimi obbligatori rimangono 6.000 euro. Su questi 6.000 euro poi si abbatte l'ascia fiscale, prelevando e assottigliando ulteriormente quelli che sono già i limiti minimi di guadagno. Detratte le tasse, da quei 10.000 euro, meno 4.000, ne avanzano 6. Detratte le tasse e tutto quello che serve per mantenere uno studio e tutto ciò che serve per poter lavorare, alla fine si capisce bene che per vivere rimane ben poco. Ciò che viene rivendicato da questa nuova sindacalizzazione che riguarda tutte le professioni, che riguarda i geometri, che riguarda gli ingegneri, che riguarda gli architetti, che riguarda i farmacisti, riguarda i dentisti, riguarda gli igienisti dentali, ognuna delle quali lamenta delle condizioni di sfruttamento enorme all'interno delle proprie categorie professionali. E faccio ancora un riferimento alla mia categoria. Negli studi legali sono occultate gravissime forme di sfruttamento sia degli avvocati che dei praticanti. Avvocati e praticanti che lavorano quando va bene per 4 o 500 euro al mese, che lavorano a nero perché non esistono, hanno un contratto e possono essere buttati fuori dallo studio in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, senza alcun giustificato motivo, con tutte le problematiche che possono sorgere quando un lavoratore di questo genere, perché si tratta di lavoratori, viene buttato fuori da uno studio a 40 o 50 anni, in che cosa si dovrebbe riconvertire un lavoratore a 40 o 50 anni dopo che sconta una formazione unidirezionale. Stesso discorso vale per i praticanti, stesso discorso vale per i triocinanti, stesso discorso vale per qualsiasi persona che cerca di inserirsi all'interno di questo mondo del lavoro. Ecco, noi crediamo che anche questi lavoratori abbiano dignità innanzitutto e abbiano necessità e diritto di una tutela che debba essere innanzitutto sindacale, innanzitutto una tutela che derivi da una contrattazione collettiva. Ecco perché nasce qua in Italia e si sta alimentando anche in maniera estremamente potente questa nuova forma di sindacalizzazione che è diversa, che è inedita, che non riguarda soltanto i lavoratori dipendenti, ma riguarda tutte quelle persone a cui fino a non molto tempo fa veniva negato addirittura la qualifica e la dignità di essere lavoratori. La CGL lo ha compreso, lo ha compreso anche alla FIOM e lo stanno comprendendo in tanti, anche perché si deve comprendere che il mondo del lavoro è cambiato. Vi racconto un aneddoto, un compagno, io vengo da Barletta, vengo dalla Puglia, un aneddoto che faccio spesso perché è importante e lascia il segno di quella che è la situazione. Cosimo, spiegami una cosa, questo lavorava in un calzaturificio nella mia zona, non abbastanza, fino a non molto tempo fa poi tutti quanti sono andati via a cercare condizioni di lavoro più sfruttabili. Spiegami una cosa, perché quando io ero assunto a tempo indeterminato ed ero sfruttato all'interno della mia ditta, dimmi perché la CGL mi riconosceva e oggi che sono stato costretto a dimettermi, che ho condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelle che avevo a ieri, che ho una retribuzione inferiore rispetto a quella che avevo a ieri, che mi hanno costretto ad aprire una partita IVA, tu dimmi perché la CGL non mi riconosce. Questo è il problema che deve essere affrontato in Italia e fortunatamente con questo nuovo movimento che parte veramente dalle radici più profonde del lavoro, sta emergendo anche in Italia. Questo è un problema che riguarda tutte le professioni, è un problema che riguarda tutto il comparto del lavoro autonomo, è un problema che riguarda tutto il mondo delle partite IVA ed è un problema che riguarda tutto il mondo della partita IVA, perché come detto in precedenza è in Italia che la partita IVA diventava il nuovo strumento dello sfruttamento del lavoro, il nuovo strumento dello sfruttamento. Chiediamo una contattazione collettiva inclusiva, chiediamo che lo statuto dei lavori, così come è stato detto in precedenza, che lo statuto autonomo del lavoro che riprenderà a breve il suo percorso parlamentare, chiediamo che lo statuto universale, del diritto universale lo sia davvero e che riguardi anche i lavoratori professionisti, che riguardi anche quelle figure che fino a ieri erano trascurate se non addirittura non considerate. Sul sistema previdenziale c'è da fare un ragionamento particolare, perché se come noi aspichiamo deve essere avviato un percorso di unificazione dei lavori, un percorso che noi vi auspichiamo, perché se i lavoratori sono tali allora è giusto che debba essere avviato un percorso di unificazione, perché non riteniamo che ci sia una gerarchia di valore tra il lavoro dipendente e il lavoratore autonomo, se i lavori sono uguali allora devono essere trattati come tali, uno statuto per tutti, con trattazione collettiva per tutti, e previdenza per tutti, perché a questo punto se deve essere avviato un percorso di unificazione allora deve esserlo anche dal punto di vista previdenziale, perché è un ragionamento di unificazione delle casse di previdenza in un unico ente che possa gestire la previdenza dei professionisti, oppure l'assorbimento di queste casse di previdenza all'interno dell'Inps in in maniera tale da beneficiare di economie di scala, potrebbe essere un ragionamento avviabile, secondo noi potrebbe portare benefici diffusi, unitamente all'abbattimento dei contributi minimi e obbligatori e alla censura politica di tutte quelle pensioni maturate combinando il sistema retributivo con la grandissima evasione fiscale, che è un grosso problema che riguarda non soltanto i lavoratori autonomi ma tutto il mondo delle pensioni e tutto il mondo del lavoro qui in Italia. L'adozione di un sistema contributivo corretto con correttivi solidaristici, da finanziare qui ancora mi ritrovo con alcuni passaggi fatti in precedenza da Davide Serra per quanto riguarda l'aumento della tassazione sui professionisti e in generale su tutti quei cittadini che sono portatori di redditi alti e medio-alti, in modo tale da recuperare risorse che possono essere utilizzate per finanziare un'estensione dell'assistenza specialmente a quei lavoratori e in generale a tutti quei cittadini titolari di redditi bassi e medio-bassi. C'è da fare qui in Italia, secondo noi, una grandissima opera di redistribuzione del reddito che non riguarda soltanto il reddito dei professionisti ma tutti i redditi dei cittadini, proprio al fine di riottenere una redistribuzione della ricchezza che possa portare all'equità non soltanto intergenerazionale, come si faceva riferimento durante l'introduzione, ma ad una equità reddituale. In Italia più di uno scontro tra generazioni è in atto uno scontro tra redditi, scontro che vale nella mia categoria, vale nelle tutte le categorie ma vale tra tutti i cittadini. Ciò che stiamo registrando all'interno della professione, all'interno delle nostre organizzazioni è un aumento del divario tra professionisti e portatori di redditi alti e medio-alti e tutti gli altri. Aumenta il reddito di molti e diminuisce il reddito di tantissimi, ma questo è un ragionamento che non riguarda soltanto noi, questo è un ragionamento applicabile a tutta la società. Si è fatto prima riferimento ad una causa principale che nel mondo del lavoro è la produttività. Questo secondo noi è un altro effetto, l'effetto di un'altra causa e la causa principale è la progressiva penetrazione all'interno del nostro sistema di un sistema liberista, mercantilista, per cui tutto deve essere subordinato al profitto, al capitale, all'interesse, compreso i diritti delle persone, compresa l'amministrazione della giustizia. E qua mi ricollego ancora al PIL, perché sulla base dei dati della Banca d'Italia l'un per cento di PIL potrebbe essere recuperato se si efficientasse il meccanismo giudiziario. Perché non si investe sulla giustizia? Perché invece si aumentano i costi di accesso alla giustizia? Perché si vuole indurre il cittadino a rinunciare all'esercizio dei propri diritti. E se il cittadino rinuncia all'esercizio dei propri diritti, allora gli spazi delle multinazionali si aprono, allora gli spazi della grande industria, gli spazi di sfruttamento anche all'interno delle fabbriche aumentano. Questo potrebbe essere un giusto meccanismo che metterebbe in moto un meccanismo virtuoso di solidarietà. Questa è un'altra parola che portiamo, perché ciò che abbiamo registrato è questo e poi mi avvio alla conclusione. Perché i problemi di cui stavo parlando non riguardano soltanto il mondo dell'avvocatura, ma riguardano tutte le professioni e a ben guardare riguardano tutti i cittadini. Quello che abbiamo fatto noi è guardarci, ci siamo riconosciuti tutti come lavoratori, ci siamo organizzati, perché non l'avevamo nel sindacato. Alla fine, visto che non ce l'avevamo, ce lo siamo dati, lo abbiamo creato noi. E in alterno di questa organizzazione ci collaborano tutti, geometri architetti, come dicevo prima, ci sono archivisti, ci sono figure professionali che nemmeno credevo esistessero prima di incontrarle. Ci sono bibliotecari, ci sono parafarmacisti, tutti con lo stesso problema, con lo stesso problema fiscale, previdenziale, tutti con lo stesso problema di migliorare le proprie condizioni di lavoro e di cercare un sistema fiscale previdenziale che sia semplicemente compatibile con la vita. Questo è l'obiettivo finale. Ciò che chiediamo quindi è una contrattazione collettiva che possa portare ad una migliore tutela non dei nostri diritti, ma dei diritti di tutti, perché non crediamo che ognuno si possa salvare da sole. O ci salviamo tutti quanti insieme, o le nostre condizioni di lavoro migliorano tutti quanti insieme, o non miglioreranno le condizioni di lavoro e di vita di nessuno. Grazie.